Papa Francesco ha ricevuto in ugienza una delegazione dei padri mercedari in occasione dell'ottocentesimo anniversario di fondazione dell'ordine, ricordando loro la vera missione di un evangelizzatore. Il profeta sa andare alle periferie, ha detto Papa Francesco in spagnolo, alle quali si avvicina libero dai bagagli. Lo spirito è un vento leggero che ci spinge in avanti. Evocare ciò che mosse i vostri padri e dove li diresse, ha proseguito il pontefice, ci impegna a seguire i loro passi. Loro furono in grado di restare come ostaggio accanto ai poveri, agli emarginati, agli esclusi dalla società, per confortarli e soffrire con loro. E questo un giorno dopo l'altro nella perseveranza e nel silenzio di una vita libera e generosamente donata. Seguire questi predecessori dunque è comprendere che per riscattare i più poveri dalla miseria che li imprigiona, dobbiamo farci piccoli, pronti a proclamare l'anno di grazia del Signore, a tutti coloro cui siamo mandati, includendo le vittime della tratta dei nuovi schiavi, i giovani delle scuole, coloro che attendono le opere di misericordia e i fedeli delle parrocchie e delle missioni della Chiesa.